Buon salve e bentornati su No Mamamazzo. Continuano i miei video su Samuel Stern che è arrivato al suo numero 7 dal titolo L'Agenzia. Prima di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace, di attivare la campanella delle notifiche in modo da essere informati su tutti i prossimi miei video che usciranno, di condividere il video con tutti i demoni che conoscete che si sono impossessati di pelli umane e di commentare qui sotto con quello che venne parso del numero o in generale di questa saga fumettistica. Approfitto anche per ringraziare il padre editoriale di Samuel Stern, ovvero Gianmarco Fumasoli, che nel mio scorso video mi ha ringraziato nei commenti, ha commentato il mio video, quindi è stato un grande onore sapere che comunque chi ha creato questo personaggio abbia visto uno dei miei video. Non uno dei migliori tra l'altro, quindi spero che abbia visto poi anche gli altri. Ma cominciamo adesso. Innanzitutto il numero 7 si apre, come sempre, con un editoriale appunto di Gianmarco Fumasoli, che ha scritto in piena quarantena, in piena pandemia. Neanche a farlo apposta, questo numero, soprattutto all'inizio, ha molte analogie con la pandemia in corso, perché c'è sempre questo discorso che i demoni, pur nascendo all'interno del corpo umano come tumori, pare abbiano anche la capacità di infettare le altre persone. Quindi c'è anche un discorso di infezione, cosa che fortunatamente almeno i tumori reali non hanno. Quindi c'è questa doppia negatività dell'aspetto demoniaco dell'universo di Samuel Stern. E parte proprio questo numero con una piccola infezione da parte di un personaggio, che scopriamo è parte di un tutto, è parte di una qualcosa di più grande, che è appunto l'agenzia. Tra l'altro proprio in questo numero, non ho capito se c'è un significato particolare, ma in questo numero, oltre a essere uscita la cover classica, con i soliti fantastici disegni, è uscita anche la cover variant, la white cover. Solitamente le white cover servono per poi ritrovarsi nelle fiere del fumetto, portarla all'autore, al disegnatore in questo caso, e farsi fare uno sketch personalizzato. Io tendo a tenerle bianche, perché mi piace anche averle così intonse, ma è proprio come se la Bugs Comics ci stesse dicendo vi diamo questa cover, sappiamo che non possiamo riunirci adesso perché c'è la pandemia, ma è un segno per dire ci vedremo presto, ci vedremo presto in fiera e personalizzerete questo fumetto. Almeno io gli ho dato questo significato anche alla luce dell'editoriale di Gianmarco Fumasoli. L'agenzia ha dei chiarissimi rimandi a X-Files, ai personaggi di X-Files. Per esempio c'è Gillian, che è uno dei, diciamo, responsabili, uno dei, penso, tenenti o capitani, non lo so, di questa agenzia non proprio governativa, di questa agenzia privata, che fuma tantissimo, fuma costantemente, ricorda appunto l'uomo che fuma di X-Files. Allo stesso tempo il suo nome è Gillian, come l'attrice che interpretava Dana Skelly, ovvero Gillian Anderson. Come avevo anche supposto nello scorso video di Samuel Stern, questa agenzia ricorda molto l'iniziativa che era presente nella quarta stagione di Buffy, ovvero un'agenzia paraguvernativa, paramilitare, che in teoria sulla carta dovrebbe essere alleata del nostro protagonista, così come l'iniziativa in teoria era alleata di Buffy, perché insieme cacciavano i mostri. Cosa succede? Che però questa agenzia, proprio perché è grande, proprio perché si occupa a livello tentacolare di molti fatti, di extra realtà, così la chiamano, ha una moralità molto più flessibile del nostro eroe, senza macchie, senza paura. E proprio per questo, così come è accaduto anche nella quarta stagione di Buffy, nonostante siano sulla carta degli alleati, il nostro protagonista non vuole avere a che fare con questa agenzia, proprio perché i loro metodi, non condivide i metodi con cui agiscono. Se devo trovare un difettuccio a questo numero, lo trovo nella regia, diciamo, di questo numero, cioè ci sono un paio di volte in cui si danno per scontato delle scene, si saltano dei passaggi, tant'è che ho controllato di non aver saltato io una pagina, invece no, semplicemente lo stile registico di questo episodio fa sì che alcune cose siano lasciate intendere. Non è assolutamente un difetto, è solo un attimino diverso dagli altri numeri, e quindi mi ha leggermente spiazzato all'inizio, però nulla su cui non si possa andare oltre. Sempre tornando all'agenzia, c'è il personaggio di Ross, che è questo nuovo cadetto, che anche lì non so se il nome è ispirato a Thunderbolt Ross, quello l'antagonista dell'incredibile Hulk, che è un militare, che è il classico bulletto, il classico bullo che ha fatto carriera nell'esercito, come diceva Caparezza, è come la Naya, dove chi più aveva potere più era ignorante. Nella canzone nessuna razza, se non sbaglio. Questo Ross è proprio un personaggio che è stato scritto per essere detestato, è stato scritto perché noi lettori sperassimo che morisse male, malissimo, incrociate le dita che magari sarete accontentati. Parliamo un attimino della storia. Si apre con una gita fuori porta da parte di Samuel e Duncan, il padre Duncan, che mi ha ricordato molto alcuni numeri di Dylan Dog in cui Dylan e Groucho sono in giro con la loro Volkswagen nelle campagne londinesi. Quindi mi ha ricordato molto anche questo tipo di rapporto. Scopriamo appunto, come era ovvio, che oltre a Duncan e Samuel ci sono altre persone a conoscenza di questi fenomeni, delle possessioni demoniache, della storia reale di come nascono i demoni, tra cui un ex, diciamo una conoscenza, una vecchia conoscenza di padre Duncan, che è questo Malachi, che ha appunto dei trascorsi con padre Duncan. E poi abbiamo appunto questa agenzia che sa le stesse cose che sa Samuel, se non molto di più. Tra l'altro l'agenzia si chiama Singularity, Singolarità. Singolarità è il nome forse più scientifico, più... più... sì, più scientifico, che una persona può dare a un fenomeno inspiegabile, un fantasma, un'apparizione, una possessione. sono a livello scientifico cose inspiegabili, cose che non dovrebbero accadere. Quindi Singolarità, direi, che è il nome più azzeccato per far anche capire che questa agenzia non tratta le cose dal punto di vista della fede, dal punto di vista della religione, le tratta come se fossero appunto dei fenomeni fisici da tenere a bada. Tant'è che parlano di extra realtà, anche loro sanno che ci sono diversi piani della realtà. Noi abbiamo scoperto nel numero 3, legione, se non sbaglio, che c'è questa dimensione che si chiama legione, che è l'inferno dei demoni, per quanto... da quanto abbiamo capito, che è uno dei tanti piani della realtà. Questa agenzia cerca appunto di dare un colpo al cerchio e uno alla botte, cerca di tenere un equilibrio tra questi piani, in modo che non si rovesci la pignata. da questo punto di vista è l'agenzia a essere molto più simile al John Constantine dei fumetti, che non ha una vera parte nel bene e nel male, ci tiene solo a dare un colpo al cerchio, un colpo ai demoni e un colpo agli angeli, non gliene frega niente. In questo caso è molto più simile l'agenzia alla filosofia di vita di John Constantine che non il nostro protagonista stesso, che è un esorcista, diciamo. Questo numero è un numero da edicola che ci fa però venire voglia di andare a recuperare i numeri scorsi, o quantomeno, se li abbiamo già, come nel mio caso, di rileggerceli tutti. Però purtroppo non lo dico per forza in senso positivo, nel senso che abbiamo scoperto dai numeri scorsi alcuni tasselli di questo universo, di come funzionano i demoni in questo mondo. Ma allo stesso tempo, a una prima lettura, a me sembra di aver trovato delle contraddizioni, quindi vorrei rileggere per vedere se mi sbaglio io. Per esempio, nel numero scorso, Samuel dice a Valerie che un demone adulto, un demone cresciuto, che esce da un corpo umano, non può rientrare in un altro corpo umano. Non è così che funziona. Quando appunto Valerie chiedeva che il demone del ragazzo entrasse in Valerie, dice, non è così che funziona. Eppure è stato nel primissimo numero, il nuovo incubo, dove c'era il demone della bambina posseduta, che è entrato poi nel corpo del padre. E prima che il padre si facesse saltare le cervella per proteggere la figlia, il demone stava comunicando attraverso quel corpo, stava vivendo attraverso quel corpo. Quindi non so se è stato un errore quello detto in Valerie, che vi ricordo è anche l'unico numero per ora non scritto da Fumasoli, o se è stato un modo per Samuel di non... di convincere Valerie a non commettere stupidaggini. Per forza bisogna vederla così, perché mi viene appunto da pensare che invece un demone può uscire da una persona per entrare in un'altra persona. Anche perché in questo numero vediamo che c'è questo antichissimo demone, questo Foras Aguli, che suona molto come Foruncoli, che è un demone delle malattie della pelle, che è talmente, talmente antico da riuscire a stare al di fuori di un corpo ospite, anche se tecnicamente Foras Aguli non sta nel nostro piano della realtà, perché quando Samuel e Gillian e Ross entrano in questo castello, cambiano piano della realtà, sono in un piano della realtà probabilmente creato dal demone stesso, quindi in quel piano della realtà quel demone riesce a sopravvivere anche senza un corpo umano. Ciò nonostante, lui ha bisogno, o comunque vuole per suo diletto, dei corpi ospiti da vestire. Vediamo proprio che lui ha un vero e proprio guardaroba di umani da vestire. E non sono umani vivi, ma sono pelli di umani. Quindi da questo punto di vista noi scopriamo che un demone, un demone formato, può indossare le pelli di un umano come se fossero un vestito. Vediamo che quando appunto indossa un corpo vivo, nella sua forma più completa, questo corpo viene totalmente eviscerato perché Foras Aguli lo indossi. Quindi da un certo punto di vista c'è una differenza tra quello che è successo nel numero 1 e quello che è successo in questo numero. Quello che è successo in questo numero è più coerente con quanto spiegato da Samuel nel numero 6 a Valery, cioè che un demone formato non può rientrare in un corpo umano senza ucciderlo. Mentre nel numero 1 vediamo che succede. Ci sono molte cose vaghe, però chiaramente si parla di un tema che gli stessi protagonisti non conoscono appieno, non è una scienza esatta, quindi il margine di errore ci può ancora stare. Sarebbe carino che la presenza dell'agenzia spiegasse in modo un pochino più preciso come caspita funzionano queste cose. Alla luce proprio di questa conoscenza non completa di come funziona tutto questo mondo di demoni, io pensavo che Samuel si stupisse molto di più a quello che è successo nel finale di questo numero. Cioè vedere, e non mi riferisco, forse era troppo impegnato a stupirsi, a inorridirsi di un'agenzia di esseri umani che trattava con i demoni una specie di trattativa stato-mafia per tenere buoni i cattivi. Però mi aspettavo che si stupisse molto anche del fatto che un demone avesse cotanto potere da influenzare tutto. Invece va un po' un passant questa cosa, no? Viene data un attimino così come Ah, sì, c'è anche questa cosa, va bene. Speravo che Samuel, che è il protagonista, quindi vede un po' anche le cose, non dico dal nostro occhio perché ne sa molto di più, però diciamo è il veicolo nel quale noi ci muoviamo in questo mondo e speravo che enfatizzasse un po' di più questa cosa. Magari lo enfatizzerà un po' di più nel prossimo numero, però al momento non ci sono numeri collegati tra loro. Ci saranno, ma al momento non ci sono. Il prossimo numero si chiama il secondo girone e uscirà il 30 giugno a fine mese. Così a occhio pare un altro numero con una storia indipendente, quindi non so se ci sarà un accenno al finale di questo numero, anche perché, ripeto, è un fumetto da edicola, quindi vogliono dare delle trame molto verticali in modo da invogliare anche il lettore occasionale a prendere il numero senza dire ah cavoli questa cosa non la so, quindi abbandono questo fumetto perché è troppo collegato. Però spero che a breve spieghino meglio questo discorso di come funziona il mondo dei demoni in modo un pochino più preciso. Al di là del succo della storia, l'agenzia mi ha un po' ricordato l'isola dei perduti perché in entrambi i casi c'è un villaggio un'isola, un villaggio che è completamente influenzato dal demone anche se poi se si entra nel vivo della storia le cose sono molto diverse diciamo che le premesse di base sono molto simili così come Valery era molto simile a Legione magari visto da due punti di vista differenti però sono molto simili tra loro. Spero che appunto andando avanti nei primi numeri non ci siano numeri così simili tra loro a così poca distanza uno dall'altro. Inoltre, e me lo sono tenuto per la fine appositamente, vi ricordo sempre che alla fine c'è il QR code da scansionare per avere un menu interattivo o una visione interattiva non interattiva però una visione un po' più audiovisiva di questo numero. In questo caso fatelo alla fine perché è un chiaro richiamo al finale di questo numero. Quindi non... se lo fate all'inizio ve lo spoilerate vi spoilerate il finale quindi non fatelo all'inizio fatelo alla fine. Vi metto sempre in descrizione il link se non volete scaricarvi un lettore di codici QR. Voi cosa ne avete pensato di questo numero? Vi è piaciuto? Fatemi anche sapere qui sotto nei commenti quale tra questi set numeri è stato il vostro numero preferito e anche perché no il vostro numero che vi è piaciuto di meno. Scrivetelo qua sotto commentate fatemi sapere perché anche così ne parliamo un attimino nei commenti io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video che sarà su Dylan Dog che è stato rimandato di qualche giorno l'uscita in edicola dovrebbe uscire credo il 4 giugno che è dal titolo L'Uccisore Arrivederci